Eccoci qua, leggiamo insieme il libro dell'anno, 22 febbraio, vediamo i versetti emotivioli. Epesini 6.1. Figli, ubbidite nel Signore i vostri genitori. Molto importante, oggi c'è un po' di ribellione nei confronti dei genitori, non si capisce bene, ma la scrittura, la Bibbia è molto chiara, i figli devono ubbidire i genitori, devono essere sottomessi ai genitori. Questo è molto chiaro e questo porterà benedizioni all'interno delle famiglie. Proverbi di oggi, omotti, la ragione molto spesso ha torto. Si dice avere ragione, la verità, è che abbiamo la ragione, la capacità di elaborare le informazioni, di arrivare a conclusioni. Ma è bello questo motto, la ragione spesso, molto spesso ha torto, quindi attenzione. Dobbiamo rifarci a Dio, alla parola di Dio per la verità, per la vita. Non anche alla nostra ragione, naturalmente, ma la ragione deve essere sottomessa alla parola di Dio. Quando la parola di Dio dice qualche verità, la ragione non può negarla, come fanno per esempio i teologi liberali oggi. La Bibbia è parola di Dio, la ragione è qualcosa che sta nell'uomo per elaborare i pensieri, le informazioni, ma non può mai giudicare la parola di Dio. Per ogni pagina di altri libri ne leggo dieci della Bibbia. Già lui l'ha scarlato questo motto. Questa verità. Quando aveva 92 anni. Quando aveva 92 anni. Per ogni pagina di altri libri ne leggo dieci della Bibbia. Quindi dovremmo avere un rapporto, insomma, di rispetto. Quando leggiamo la Bibbia leggiamo la parola di Dio, quando leggiamo gli altri libri leggiamo parole di uomini. Quindi c'è una differenza infinita tra quello che dice la parola di Dio e quello che dicono altri libri, per quanto possano essere belli, fatti bene. Dobbiamo mantenere sempre questo rapporto. La parola di Dio è di Dio. La Bibbia è scritta da tante persone, ma con ispirazione di Dio. Gli altri libri sono scritti dagli uomini con i loro acquidizioni. Dobbiamo mantenere sempre questa differenza. Ricordare sempre questa differenza. La Bibbia è parola di Dio. Tutti gli altri libri sono opera di uomini. Mai dimenticare questa cosa. Parole, parole, parole. Sì, tutta una serie di versetti, di considerazioni sul fatto di stare attenti, moderare le parole. Non parliamo troppo. La scrittura ci esalta a non parlare troppo. Con la moltitudine di parole vengono in ragionamenti insensati, è scritto. Ma leggiamo altri versetti, altri brani che ci fanno capire questo. Chi custodisce la sua bocca e la sua lingua preserva l'anima sua dalle distrette. Proverbi 21-23 Chi custodisce la sua bocca preserva la propria vita. Chi ha per troppo le labbra va incontro alla rovina. Proverbi 13-3 E la moltitudine delle parole non manca la colpa, ma chi frena le sue labbra è prudente. Proverbi 10-19 Anche lo stolto, quando tace, passa per Savio. Chi ti ha inchiuse le labbra è un uomo intelligente. Proverbi 17-28 Quindi, attenzione, la scrittura ci esalta a non parlare troppo. Sì, a moderare le parole, a misurare le parole, a pensare bene a quello che diciamo. Non viene citato, ma come dicevo poco fa, un versetto importante in questo senso è che con la moltitudine delle parole vengono i ragionamenti insensati. Quindi è davvero norma di saggezza moderare le parole, non parlare troppo. E nel nostro parlare, nei nostri discorsi, nei nostri ragionamenti, rifarsi sempre alla parola di Dio. Arrivare sempre alla parola di Dio con autorità assoluta. Spiegare e adorare Quando Dio parlò dal cielo al nostro Signore, gli uomini egocentrici che lo dirono vollero spiegarlo con le cause naturali, dicendo che era stato un tuono. Questa abitudine di spiegare la voce, appellandosi alla legge naturale, è alla radice stessa della scienza moderna. Nel cosmo che vive, che respira, c'è un misterioso qualcosa, troppo meraviglioso, troppo tremendo perché una qualsiasi mente possa capire. L'uomo credente non afferma di capire, cade sulle sue ginocchia e vi sbiglia Dio. Anche l'uomo terreno si inginocchia, ma non per adorare. Si inginocchia per esaminare, cercare, trovare la causa e il come delle cose. Proprio ora stiamo vivendo in un'era secolare. Le nostre abitudini sono quelle dello scienziato, non quelle dell'adoratore. E' molto importante, riconoscere l'autorità di Dio, l'opera di Dio, la grandezza di Dio, la potenza di Dio in tutto ciò che ci circonda. Riconoscere Dio in ciò che ci circonda, non attannarsi a spiegare assolutamente. Certo, dobbiamo cercare di spiegare, ma sempre sottomessi alla parola di Dio. Soggetti di preghiera di oggi, preghiamo per la mia opera missionaria, pregare. Dare, andare. Sì, l'opera missionaria non è soltanto dei missionari che sono all'opera in tutti gli angoli del mondo. L'opera missionaria ha tre fasi. Pregare è il più importante. Poi c'è dare, sostenere i missionari e andare. Qualcuno che deve andare effettivamente sul posto. Quindi l'opera missionaria è pregare, dare, andare. Noi dobbiamo domandarci qual è la mia parte. Che cosa sto facendo per portare avanti quest'opera missionaria. Pregare, dare, andare. Preghiamo. Un milione di bambini cinesi lascia ogni anno la scuola per difficoltà economiche. Sì. Preghiamo per la missione per l'evangelizzazione dei bambini. Sì. Preghiamo per l'Iran, una delle nazioni più difficili da evangelizzare. Sì. L'Iran, l'Afghanistan e in generale tutto il mondo islamico. Preghiamo moltissimo. È una situazione molto difficile per l'evangelizzazione. Preghiamo per l'Albania, per gli albanesi della Kosova e per gli albanesi di tutto il mondo. Sì. Preghiamo per gli albanesi. E anche gli stati del mondo oggi preghiamo per la Danimarca, 5 milioni e 7 lingue. Danimarca. Benissimo. Quindi ripetiamo il versetto di oggi e i morti di oggi. La ragione molto spesso ha torto. Sottomettiamo tutti i nostri ragionamenti quindi alla parola di Dio. Per ogni pagina di altri libri ne leggo 10 della Bibbia. Questa è un'affermazione di George Muller quando aveva 92 anni. Quindi facciamo tesoro dell'esperienza di queste persone che hanno vissuto una vita per il Signore. Per ogni pagina di altri libri ne leggo 10 della Bibbia. Efesini 6, 1. Figli, ubbiditene il Signore e i vostri genitori. Anche questo noi spesso lo dimentichiamo. Ci sono figli che si ribellano, che fanno, che dicono. Dobbiamo onorare il padre e la madre. E questo versetto ci è giusto ad ubbidire, ad essere sottomessi ai nostri genitori. È un principio della parola di Dio. È un principio che Dio ha voluto fissare bene nel nostro cuore. Bene, grazie per essere stati con noi. Vi invitiamo ancora a pregare per il campo che stiamo in questi giorni organizzando, il campo Tsunami 2024. Sì, anche perché è già tutto confermato, ma pochi giorni dobbiamo mandare anche le conferme. Quindi preghiamo per il nostro convegno in preparazione. Grazie per essere stati con noi. A presto!